Grazie ragazzi, sarò bravissima perché non voglio rubarvi spazio assolutamente, ho una bella notizia per voi, bisogna avere fiducia perché io lavoro nell'ambiente pubblico e ho sentito che sbagliare è importante, eppure nella burocrazia l'errore non è ammesso. La bella notizia è che questo cambierà e cambierà rapidamente perché il mondo sta cambiando e quindi chi non cambierà verrà distrutto. Il mio lavoro è anticipare il futuro e voi lo state anticipando, quindi forza e coraggio. Grazie.